Senatore D'Alfonso, lei ha presentato un'interrogazione sul mancato svolgimento del concerto di Giovanotti a Vasto. Ci sono state delle polemiche, ci sono ancora oggi delle polemiche, nonostante si stia lavorando per portare questo evento a Montesilvano. Io sono dispiaciuto e penso di interpretare il sentimento non solo di cittadini così intermittenti di qui e lì del territorio abruzzese. Qualifico la vicenda di Giovanotti a Vasto come una perdita, un'opportunità persa per la collocazione turistica di quella parte di Abruzzo e anche del mare dell'Adriatico. Spero che si riesca a portarlo a Montesilvano, ma noi dobbiamo fare in modo che quando si aprono queste opportunità ci sia una chiamata a raccolta di tutti, collaborativamente. Io non sono neutro rispetto a questi appuntamenti perché nel 98, da giovane presidente della provincia, mi trovai davanti ad una grande occasione. Un'occasione che determinò il pieno successo con 110.000 partecipanti e fu possibile nelle aree di risulta, nonostante la problematicità di quegli spazi, perché tutti si costituirono in un grande cantiere collaborativo. Non ci fu una sola dichiarazione stupefacente e assicuro che non mancarono i problemi neanche allora. Mi ricordo che una voce del sottofondo di una riunione sollevò il problema di possibile inquinamento delle aree da cascami di attività e di uso ferroviario di quegli spazi. Ci mettemmo a lavorare e risolvemmo anche quel problema. Io mi aspetto questo atteggiamento da coloro i quali sono contrattualizzati in nome o delle istituzioni locali o delle istituzioni centrali. Non riesco a capire parte e controparte. E poi mi aspetto anche misura, misura dal punto di vista delle dichiarazioni. Ho letto attraverso la stampa e anche attraverso alcuni atti ufficiali, francamente, dichiarazioni che devono essere approfondite. Qualificare atti come illegittimi, secondo me, chiama in causa un atteggiamento che ha dell'irresponsabile, perché nell'ordinamento italiano gli atti sono illegittimi quando interviene la giurisdizione. Grazie a tutti.